Il vostro essere qui insieme è segno di fratellanza e dove c'è fratellanza c'è pace, dice Francesco Stamani ai suoi ospiti, delegazioni delle tre sovrintendenze del Ministero iracheno degli affari religiosi, sunniti, sciiti e la terza per cristiani, yazidi, mandei e sabei. Noi siamo fratelli e come fratelli diversi e tutti uguali, come le ditta di una mano. Trasferimento quindi in piazza San Pietro per l'udienza generale, presenti anche il gruppo dall'Iraq. Intanto a Mosul ancora in furia la battaglia finale tra esercito iracheno e miliziani dello Stato Islamico, stretti da sedio nella periferia ovest dell'ormai ex capitale del Califato. Fonti ONU contano già almeno 300 morti tra la popolazione civile, che rischia di essere usata come scudo umano in una feroce battaglia, casa per casa. A loro il Papa dice... Mi sento unito nella sofferenza attraverso la preghiera e la vicinanza spirituale. E quanto alto sarà il prezzo di vite umane da pagare, tanto fragile rischierà poi di essere la pace tra sunniti che in quell'area son maggioranza e la maggioranza sciita del resto del paese. Perciò Francesco conclude... Rinnovo a tutti l'appello ad impegnarsi con tutte le forze nella protezione dei civili, quale obbligo imperativo ed urgente.